Dì al Maggiore Barton che l'attacco deve proseguire. Ma signore, non è possibile. Vengono falciati prima ancora ad aver fatto cinque metri. Ancora non funziona. I nostri picchetti sono stati visti nelle trincee turche, perciò l'attacco deve proseguire. Costi quel che costi. È un ordine, l'attacco deve proseguire. Ottimo questo tempo. Sì, è vero. Ehi, dammi una mano. Due uomini qui. Sì, signore. Atecincу lan! Ma quali picchetti? Chi ha mai parlato di picchetti? Qualcuno ha detto di averne visto uno Chi? Non ricordo, signore Gray, siamo impazziti? Non faremo mai più di dieci metri Non si può andare più su dal colonnello, signore Dal generale Gardner Vai come il vento Sì, signore Vatta largo Vatta ordini Vado a passare Vatta 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 Sembra anche a me inutile proseguire D'altra parte... Mi scusi, signore Gli inglesi sono sbarcati a Suvila Hanno trovato molta resistenza? Nessuna, signore A quanto mi risulta Se ne stanno sulla spiaggia A avere una tazza di tè Di al maggiore Barton Che l'attacco Beh, digli che sto riconsiderando L'intera situazione Sì, signore Sì, signore Non ci costringeranno ad andare No Non serve a niente Gli uomini dovevano attaccare I picchetti sono stati visti Non da me, signore Ho chiesto conferma, signore Al generale Gardner Lei ha l'ordine di attaccare Lo esegua subito Gli inglesi devono sbarcare a Suvila È chiaro? Dovete proseguire l'attacco Sarà un inutile massacro Proseguite l'attacco Sì, signore Chi l'ha cominciata questa sporca guerra? Ascoltate ragazzi Dobbiamo attaccare Ma voglio che vi ricordiate Chi siete? Siete il decimo cavalleggeri Uomini del Western Australia Non lo dimenticate Buona fortuna Buona fortuna, signore Anche a te Buona fortuna, signore Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Veloce come un leopardo. Allora vediamo come fai. Largo! Largo! Fatto passare! Porta ordini! Largo! Largo! No! 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 No!